Dalle analisi risulta che lei ha l'epatite C, è un virus che colpisce il fegato. Impossibile. Non è del tutto una cattiva notizia, può riprendersi e anche se non si riprende è trattabile. E come l'ha preso questo virus? Può succedere con lo scambio di fluidi corporei, oppure... Fluidi corporei? Ma che diavolo dice? Il virus può essere trasmesso con l'uso di aginfetti, transfusioni... Ehi! Nessuno dice queste cose di mio fratello, chiamo! Senta, non so come l'abbia presa, ma ha l'epatite C, quindi lo curiamo per... Non ha l'epatite, non si azzardi a ripeterlo e cambi diagnosi.